Bella a tutti killer, siamo in questa nuova serie Killer Craft La difficoltà normale, la text usual per adesso sarà normale, poi la cambierò Ragazzi, partiamo subito perché il video durerà 5 minuti, creiamo il video Killer Craft, ricordo Questa serie me la in pratica consigliata un amico che poi farò anche qualche video con lui, sempre di 5 minuti, normalmente e allora devo capire come fa Cioè partiamo che c'è un legno Comunque ragazzi, partiamo con prendere il legno Allora ragazzi, questa serie, ve la spiego Poi sai anche che il primo episodio lo spiego solo come la serie Allora, in pratica, intanto che prendi il legno Questa serie in pratica l'ho voluta fare Finirà quando arriveremo al drago Cioè, non è che tanto la lontana al finale L'unico, appunto, problema credo sarà sperare che ci siano gli Enderman, che sennò poi dovrò rifare Tutto da capo E a me non è che importa tanto Ti prendiamo un'altra legna Quindi notate che Ho questa skin Sempre merito del mio compagno Che mi consiglia sempre qualcosa Io ne ho consigliato la skin Oh però Che cazzo Comunque ragazzi Tipo un piccone Prendere della pietra E fare una ascia in pietra Di sboscare mezzo bosco E appunto Andare molto avanti Vado uno strappo Pimpimpububum Bumporum Bump owed Comunque ragazzi scusate se non ho messo Tanti video Come faccio sempre Ok non ho messo mai tanti video Però ragazzi E' stata E' praticamente E' praticamente Gli ultimi giorni di agosto C'è qualche giorno fa sono stati gli unici giorni in cui sono andato in vacanza e gli unici giorni in cui mi sono potuto rilassare come uno stronzo mi pare che erano tre quattro giorni comunque ne erano tanti però la fine mi sono scorciato un po allora ho detto dopo un po carico qualche video mi sono notato troppo la mano e mi sa che erano due settimane che non caricavo video o fiero che subito fa anche il piccone in pietra e lascia in pietra andiamo subito a prendere il fierro è buono iniziare che trovi il ferro però sarebbe stato anche utile un po di carbone vediamo 1 di ferro 2 di ferro e basta ragazzi poi io so in pratica c'è una sottospecie di glitch bug in pratica che tu metti un pezzo di ferro un blocco e questo qui si moltiplica io volevo farlo ma ha detto no in una serie fare queste cose è brutto e quindi non la farò però se non l'avrei fatta che ragazzi sta per finire il video prendiamo un po di legna prima di finire abbiamo trovato due minerali di ferro all'inizio non è male è buonissimo dai forse sei minuti che dite dura dai dai proviamo fino a sei minuti dei video per riconvenire no raga poi di one piece e io ho scritto sul titolo serie dai fare spero che abbiate capito nel senso che non posso più continuare gli episodi non posso caricarli perché sono troppo lunghi perché appunto uno dura il secondo episodio dura tipo ma quanti minuti aspetta tipo una ventina e 18 minuti e il terzo dura 20 minuti quasi 21 e quindi però anche se lo editavo con camstasia doveva diminuire lo spazio quindi caricare più veloce proprio sta minchia cioè ci metteva tempo facciamo sei minuti poi se non carica su youtube lo dirò perché devo segnalare questa cosa non è giusta può essere anche che forse non carica i video troppo lunghi perché dieci minuti me li carica certe volte sette volte si bugga quando si bugga vuol dire non puoi caricare il video abbiamo quasi preso uno stack siamo a cinque minuti di video però ho detto sei minuti e quindi continuerò fino a sei minuti poi ragazzi io fra un mese me sa e formatterò un pc poi non lo so e potrò iniziare a fare le serie ma quelle lì proprio sul pc minecraft per pc con le mod se non ce l'unica cosa più essenziale non ce l'ho oltre il legno ma non ce l'ho se cadessero a meno a me mi sa che non cadino esce meno ok facciamo questa ce la mettiamo subito come il calendario mettiamo tutto il legno che ci è arrivato qui molto molto comunque ragazzi io dico che il video può finire qui quindi il materiale mamma mia l'abbiamo trovato cioè mamma mia quanto cazzo è cioè abbiamo disboscato un mezzo bosco e abbiamo trovato tutto ben di dio per aver visto delle zucche però aspettate ragazzi aspettate prima di finire il video devo dire una cosa cioè sta minchia io pensavo che era una grotta sta cacchio de' minchia però aspettate ragazzi io non voglio morire fame però voglio fare una cosa prima di finire il video ah vedete vedete che il gioco è bastardo te fai vivo o no non c'è cibo e poi guarda quanti cazzo ce ne stanno ok dai facciamo una cosa che mangio perché non voglio fare che nel prossimo video tipo mi trovate tutto con mangiato ecco infatti la serie continuerà ogni volta che mi verrà voglia di registrare quindi il mondo lo rimango così mi sa che poi arriverà tra non molto qualche video con appunto il mio amico che mi ha consigliato questa serie che spero vi piaccia quindi ragazzi mettete mi piace iscrivetevi al prossimo video e comunque grazie per 17 iscritti che quasi sempre aumentano vi ringrazio appunto mettete un grandissimo big like e aspettate che oh ma ci facciamo anche l'armatura domani eh al prossimo video ci faremo un cappello vai così ciao